dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini direbiribo 00 capitolo 42 aprì la porta rimasi allibito tutti gli oggetti che volavano da tutte le parti ma la cosa più inquietante era la scritta che c'era sul muro cerca le risposte dove è trovato le domande ad un certo punto tutti gli oggetti caddero per terra e tutto il casino cessò impauriti almeno io est eravamo impauriti ma sarà sembrava tranquilla come se vedesse chi lanciava tutti gli oggetti iniziamo a riordinare tutto quel casino e una volta finito sarà andò in camera sua mentre io est andammo in ufficio teo hai bisogno d'altro o ti decidi a trovare delle spiegazioni maest cosa posso fare dai ora fammi andare a pulire quel dannato muro da quella dannata scritta fesi giù con l'occorrente e quando andai in salotto la scritta scomparve salì in ufficio e sistemai le cose che dovevo usare per levare le scritte scommetto che le scritte sono scomparse ti sbagli le ho tolte io in neanche un minuto dai teo non prendermi in giro sì sono scomparse allora e allora cerca delle risposte eri il primo che si preoccupava di questa faccenda e ora ti ritiri ma fammi il piacere non mi sto ritirando la mia vita ora non deve girare attorno a tutta questa situazione capisci ciò che sto dicendo ho una figlia non posso trascurarla per via delle cassette degli strani avvenimenti accaduti in casa ah beh certo se non fosse stato per un miracolo tua figlia non sarebbe ancora viva quindi o ti decidi a prendere la situazione in mano o le cose degenereranno detto questo uscì dalla stanza sentì una porta aperta e chiudersi quindi dedussi che fosse in camera da letto la seguì ed entrai nella camera era tutta coperta e girata di spalle mi sdraiai e l'abbracciai ma da un certo punto suonante 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 Grazie.